E' urca, bien urca a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di forte, andiamo a nord di caverna Di comando ragazzi, eccola qua Per appunto prendere il nostro caro amico gettore, questo che problemi ha, lo so solo lui Eccolo lì ragazzi, già lo intravedo, mi chiamo questo, la mia era veramente pessima, te lo posso garantire Andiamo subito alla card, così facciamo al volo proprio senza farci ammazzare almeno Dunque, perfetto, eccolo qua ragazzi Tutto il nostro splendore Andiamo a prendere il gettore Let's fucking go ragazzi, e ora andiamo subito prima che ci fotte il cioppa Il cioppa, oh là, perfetto Ragazzi, ultimo video tra pochissimo a nord di condotti confusi, va bene Non ci spara al missile, ma non è che ci interessa, anche perché forse riusciamo anche a schivarlo Se spettiamo, vediamo se riusciamo a schivarlo Eh sì, mi sa che riusciamo a schivarlo Mamma mia, sono fortissima ragazzi Fatelo schivato Ah, godo, scemo Dunque ragazzi, a tra poco Grazie